Noi come Anni siamo convinti davvero che l'unico mondo che abbiamo, come Italia, come Piemonte, per poter giocare la partita nel mondo, non è il mondo della quantità, ma è il mondo del carattere. Perché purtroppo con me siamo fatti una fantastica azione con una gravissima biodiversità. E però abbiamo l'estensione dei nostri, con due estensione dei nostri convegni torno biardi. L'estensione, come io parlo, del centro dell'Alder, del centro dell'Alder, degli stile americani, degli Stati Uniti, l'estensione del mondo europeo, dei tedeschi, dell'Allia, dell'altro livello del nord dell'Oroco. Quindi non abbiamo possibilità di cercare questo. Non abbiamo possibilità di andare sulle grandi qualità, l'unica nostra speranza è la nostra biodiversità.